Siamo anche quest'anno come Casa dei Pensieri, una grande rassegna culturale e internazionale alla Festa dell'Unità di Bologna alla Fiera, che correrà dal 23 agosto al 10 settembre. Ci siamo con anche la Targa Ricordo di Paolo Volponi, un premio che è cresciuto di anno in anno e oggi si presenta fra i più significativi in ogni campo dell'arte e del giornalismo. Quest'anno i premiati sono Gad Lerner per il giornalismo, Niva Lorenzini, una colonna della vita culturale letteraria bolognese e italiana, Lella Costa, una maestra del nostro teatro. Sono due pittori protagonisti di stagioni diverse come Sissi, una performer eccezionale, e il maestro Maurizio Bottarelli. Infine, per la sessione Civismo, una bella sorpresa, una bella novità, saranno premiati i ragazzi che hanno realizzato il film Sognando Gianni Morandi. È un corto bellissimo che narra un'esperienza di autonomia dei ragazzi down, di associazioni di idee, che hanno ideato, pensato e realizzato questo interessante progetto filmico. Quindi vi aspettiamo da Gad Lerner a Sognando Gianni Morandi il premio Volponi ancora una volta da Bologna nella vita culturale dell'Italia.